E viva il Teatro Vaccai! Il 29 luglio 2008 fu distrutto da un incendio, il 10 settembre 2018 è stato riconsegnato alla città. Il Teatro Vaccai di Tolentino è stato riaperto ufficialmente ieri sera con una cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato tante autorità con tanti sindaci di tutto il territorio. La sera di grande festa, di riappropriazione di un teatro che è fedelmente riprodotto per quanto erano le caratteristiche prima dell'incendio devastante del luglio 2008. Poi chiaramente è stato aggiunto molto in l'ampiezza dell'impianto scenico, la meccanizzazione in largo e lungo in tutto il teatro, la tecnologia che la fa la padrone in ogni angolo per cui direi che oltre ad essere il teatro di un tempo è anche il teatro del futuro. La serata si era aperta in Piazza della Libertà con il corteo guidato dalla banda cittadina, poi il taglio del nastro, inno nazionale e le varie ricostruzioni della storia del teatro e del suo restauro. Infine anche una parte artistica con le esibizioni di Enzo De Caro, Michele Zarrillo e l'Evergreen Rita Pavone. Un teatro meraviglioso, una bomboniera ed è bellissimo che queste atmosfere non si devono perdere mai. Bisogna sempre cercare di salvare quello che è importante, sono dei pezzi di storia enormi, bellissimi. L'hanno reso meraviglioso, complimenti vivissimi a tutti quanti.